Cadoro è una finitura decorativa per interni dall'aspetto setoso e morbido al tatto che crea particolari effetti iridescenti che variano secondo l'angolo di luce riflessa. Cadoro deve essere applicato sul fondo specifico DecorFond opportunamente diluito. Il prodotto è pronto all'uso ed è applicabile con frattazzo in plastica. Su superfici difficili si consiglia di stendere il prodotto con un pennello e di seguito decorare con il frattazzo in plastica o in acciaio. Si stende il primo strato di prodotto e ad avvenuta essecazione dopo circa 6 ore si applica il secondo strato con le stesse modalità del primo. Per ottenere più riflessi decorativi passare il palmo del frattazzo sulla superficie in direzioni contrapposte. Quando la seconda mano inizia la sua essecazione.